Sotto scacco per interminabili minuti, minacciato da tre banditi armati di pistole incappucciati. Terrore venerdì sera nella stazione di servizio S sulla Maglie Collepasso, vittima ancora una volta un benzinaio. I banditi sono riusciti a distorcerli 300 euro, denaro contenuto in cassa, poi sono fuggiti a condurre le indagini, i carabinieri. Sono tre i rumeni che la polizia di Lecce ha portato in carcere dopo aver fatto eruzione nell'ex concessionaria Alfa Romeo di Via Taranto, occupata abusivamente. Gli agenti sono arrivati a loro dopo una denuncia di una coppia di connazionali che aveva raccontato di come i tre li avessero raggiunti in casa, terrorizzati e costretti a consegnare loro il denaro disponibile e invitati a consegnare altri 1000 euro per poter continuare a vivere nella casa, che anche loro avevano occupato abusivamente. La coppia, senza fissa dimora, aveva trovato un tetto nell'abitazione abbandonata, la periferia di Lecce. I tre connazionali li hanno raggiunti lì. L'uomo è stato picchiato, la donna immobilizzata su una sedia. L'obiettivo era chiaro, solo in cambio di denaro, li avrebbero permesso di continuare a stare lì. Dopo la denuncia, la squadra mobile ha rintracciato i tre. L'accusa è di rapina ed essorzione. Fabio Pedata, quarantenne di Campi in Salentina, si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Secondo le indagini dei carabinieri di San Donaci, l'uomo avrebbe costretto tre ragazze rumene a prostituirsi. Sarebbe stato di fatto il loro autista. Le prelevava dall'appartamento di San Donaci, dove vivevano, le accompagnava per strada. Poi la sera passava a riprenderle. Movimenti monitorati per giorni dai carabinieri sino all'ordinanza di custodia cautelare. Le fiamme hanno avvolto la Chrysler all'alba. L'auto era parcheggiata in via Alessandro Manzoni a Lecce, sotto l'abitazione di una giovane donna. I vigili del fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme, mentre la polizia sta conducendo le indagini. Nonostante sul posto non siano state notate tracce che possono far pensare ad un attentato.